Mentre il governatore della Calabria, Mario Oliverio, gira lungo e largo la regione, queste immagini si riferiscono all'evento organizzato a Ciro Marina per spiegare quanto fatto in questi anni e sostenere la sua ricandidatura, arriva un'uscita pubblica del commissario regionale del PD. Stefano Graziano, come si legge in un'intervista rilasciata al Quotidiano del Sud, boccia le primarie che lo stesso Oliverio ha più riprese invocato. Per Graziano darebbero vita ad una conta interna lacerante e potrebbero rappresentare un pericoloso boomerang dagli effetti devastanti. E mentre molti circoli, tanti sindaci, dirigenti di partito e amministratori chiedono di fare le primarie per fare una scelta democratica e dei territori, il PD nazionale, senza tanti giri di parole, boccia dunque la ricandidatura del governatore e non vuol fare neppure le primarie. Invece, sulla necessità delle primarie, tornano alcuni dirigenti del PD della provincia di Crotone. La democrazia si afferma sulla capacità di dialogo e soprattutto di confronto in maniera democratico, sereno e con grande umiltà nell'effettuare alcune scelte. Sostengo l'idea delle primarie, chiaramente primarie che devono essere svolte secondo le regole democratiche che diano la possibilità ai cittadini di poter scegliere chi effettivamente li deve amministrare. E tutto ciò mi auguro che avverrà e che avverrà nell'unità più piena e soprattutto nella responsabilità di ognuno di noi rispetto a quello che è il problema che oggi questo nostro territorio, questa nostra Calabria e in maniera particolare in questo momento la nostra nazione sta vivendo. Il PD è fatto da molti segretari di circolo, quasi la totalità in Calabria che chiedono una riconferma di Mario Leverio. Fa notizia di più rispetto a questo invece che alcuni dirigenti vogliono una riproposizione del passato, cioè riunirsi a tavolino per scegliere chissà quale candidato che garantisca chissà chi.